oh oh che succede al mio portatile? oh no 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 non mi piace! ho bisogno di aiuto! oh 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 no sorellina! cosa facciamo? ho un'idea! pronta? vado io per prima! sono giusto dietro di te! ci siamo! dove sono tutti? sento qualcosa! è lei! silenzio! resterai nell'armadio mia piccola prigioniera! odio i ragni! ti ho detto di fare silenzio! oh cos'è? nasconditi! ora! mi sembra un po' stretto per due persone! allora giochiamo? toc toc! c'è qualcuno in casa? santo cielo! che spreco di artigli! è vuoto! ci sono altre due scatole qui! ci deve essere qualcuno! dobbiamo salvarla! cosa piace ai gatti? oh! una piccola fiamma! la prendo! la prendo! non scappare! dove stai andando? ahi! non te ne andrai così! oh cavolo! oh sì! userò il mio artiglio più affilato! ragazzi! dati a questo video mille like per salvarmi! mi sopplico! grazie mille! è mia! signor gas! sta spregando il suo piatto! cosa? che succede? ehi là! oh cavolo! è scappata di nuovo! silenzio! sono io! sono stufo di voi! ora vi prendo! zitta! cosa ne faccio di voi? un'idea mi è passata per la testa! vediamo! forza! muoviamoci! vorrei dare un'occhiata! cosa sta facendo? non potete nascondervi da me! questo è per te! davvero! adoro i regali! grazie! che cos'è? un topo? batti il cinque gemella! questo round è nostro! il gatto non c'è! fantastico! vediamo! santo cielo! ma che succede qui? non è possibile! nostra sorella! aiuto! è mia! cosa facciamo? nascondiamoci laggiù! lasciami andare! sono io la prima! aspetta! non andrai da nessuna parte! ci vuole solo un minuto! aspetta! potere all'unicorno! oh brutto gatto maleducato! vattene! corri! odio gli unicorni! vai dietro ad aggi! ok! dove sei? fatti vedere! siamo nel guai! ops! dove ti stai nascondendo? ehi là! sparisci! tu! blu! non sei alla mia altezza! esparmiami! ti prego! vieni qui! ti vendicherò di te! cosa? possiamo uscire adesso? eh? è troppo presto! vai nello sgabuzzino brutto pelosone! è orribile! cosa? il gatto se n'è andato! ehi sorellina! il gatto se n'è andato! fantastico! di là! tu vai nell'armaghetto! io invece dietro l'albero! no! mi si può vedere! dove mi nascondo? oh! qui! dietro gli scatoloni! fantastico! oh! il piano è andato a monte! mi serve un piano B! dove mi nascondo ora? oh no! è qui! santo cielo! bene bene bene! allora chi si nasconde qui? pronti o no? sto arrivando! ragazzi! dateci un like! non fatemi cadere! oh oh! non c'è nessuno! vediamo! ragazzi! vi devo un favore! oh! ehi cucciolo! bravo cucciolo! come sei finito qui? oh oh! c'è un gatto! cavolo! no no no! bravo ragazzo! bravo! non mordermi! aspetta! ho qualcosa per te! non è quello che pensi! guarda! è cibo per cani! mmm! delizioso! ecco chi arriva! bye bye! poi! di nuovo! bravissima! ok! basta così! la grata! entriamo lì! non c'è modo di raggiungerla! qualcuno ha le braccia molto corte! oh! lo so! ci servono braccia più lunghe, no? fantastico! guarda cosa ho trovato! piano! ops! scusa! spostati! ci penso io! ok! vado io per prima! seguimi, sorellina! oh! cavolo! a te sveglio! ora basta! vedo rosso! no no no! stai lontano! per favore! allora, chi è il vincitore ora? eh? è nelle mie mani! sei mia! decisamente no! non puoi strisciare via da me! no! aiuto! Caroline! non mollare! tieni duro! no! no! ti prego! non similare! il gioco è finito! ne manca solo una! sto venendo a prenderti, bambolina! fermati! non te ne andrai! ehi! dove pensi di andare? la caccia continua! dove andremo a finire? io! sono arrivata! che cos'è? una pistola ad acqua sarà utile! fantastico! oh no! Kat è tornato! gli darà un caloroso benvenuto! ehi gatto! vieni! sì! eccoci qui! sono un osso duro! ma dov'è? basta la vista, gattino! oh no! ahi! la mia schiena! è la mia occasione! prova a schivarlo! oh mamma! acqua! acqua! sto arrivando! quella è la porta! peccato che non conosca il codice! ragazzi, aiutatemi! ditemi il codice corretto! scrivetelo qui sotto! è importante! qual è il codice di accesso? quali potrebbe essere? mi serve un indizio! oh! è questo? grazie mille! proviamo! 18 18 ha funzionato! sorella! sto arrivando! sorella! ma dov'è? stava per fregarmi! sei destinata a fallire! missile letale! a terra! aiutatemi! aiutatemi! oh cavolo! ti prego! non farlo! aiuta! no! ti sopplico! abbi pietà! cosa? un orologio? mi serve un'altra possibilità! ora sono pronta! prendi questo! no! oh sì! ha funzionato! sorelle! sei qui? yuhu! siamo libere ora! oh oh! guardate! chi è? gnam gnam! accidenti! un altro! correte! correte! miam miam! delizioso! aaaaaaah! stella! voi siete le prossime! dobbiamo salvarla! tira! più forte! forza! dove siamo? la mia testa! buon dio! è inquietante! sblocchiamo la porta! dove vi nascondete? vi troverò! oh cavolo! no 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 no! ti prego! non trovarmi! con quale scatola hai inizio? ho fame! oh cielo! shh! cosa sono queste onde? sto morendo di fame! calmati! aspetta qualcosa! è proprio perfetto! un'arma mortale affilata! aaaaaah! oh spiriti ninja! datemi un segno! a quanto pare quello è il mio obiettivo! chissà se è affilato! vediamo che ho preso! miam miam! come? non c'è nessuno qui! mi hanno fregato! dovrei elaborare un piano d'azione! nab nab! pensaci meglio! che c'è qui? ahah! non puoi nasconderti da me! serve una nuova arma! bolle di sapone! ma scherzi! che cosa ci farai con quel? ci farai un bagno di schiuma? è isterico! smettetela! ora vedrete! vedremo chi avrà l'ultima risata! ah oh! ah grande perdente! tu! entra nell'armadetto! perdente! no! ti prego! non farlo! è la cosa peggiore! smettila! oh! il mio povero dad! ora basta! ci penso io a te! la mia spada affilata! allora chi di voi sarà la prima ad andarsene? non io! per favore! non io! no! per favore! universo! dammi un suggerimento su quale scatola devo scegliere! sole! bene! sole! preparati a tramontare! eh? cosa? dannazione! perché non funziona? ora basta! non ne posso più! niente! è orribile! ma dov'è? ops! niente! è orribile! è orribile! ma dov'è? perché è così silenzioso? se n'è andato davvero? tutto libero! ragazze! uscite! se n'è andato! ok! è lassù! dove? sul soffitto? è assurdo! è lui! no! io! sono viva! ma dove sono? è il suo stomaco o cosa? bel pranzo eh? ne voglio ancora! ah! è remoto! ho tanta fame! un altro servizio! il mio dessert si nasconde qui! che paura! che schifo! stella! tieni le tue paure per te! mi serve un'arma! niente mani, per favore! un minuto! no! non questo! oh! è perfetto! che schifo! amico! almeno lavati i debili! mi serve qualcos'altro! ancora? bene! ecco a te! cosa? un palloncino? cavolo! mi prendi in giro! ho bisogno di una vera arma! non succederà! ai! piranha! fantastico! oh! pesci pericolosi! saltaci sopra! finalmente! ah! sole! fai qualcosa! miam miam! no! ah! ah! ma dove siamo? i miei occhi! sono accecato! stupido sole! no! dove ci nascondiamo ora? oh sì! altre scatole! dove siete? merendine mie? devi lottare per te stesso! capito? no! aspetta! che succede? eh? non sapevo di avere un cannocchiale! dov'è la mia scatola? grazie! non sbirciare! ora vi mangio tutte! oh no! oh sì! dannazione! un'altra scatola vuota! oh! una motosega? potrei usarla! mi fai il solletico! smettila! basta! continuiamo la caccia! ah 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 ah! non puoi andartene adesso! sei proprio un gentiluomo! ahi! vieni fuori! faccia da stella! ti ho preso! bene! e ti mangio! aspetta! facciamo una partita! eh? va bene! ho vinto! quindi ti mangio! fermati! vuoi ballare? eh? giochiamo a just dance! che fortuna! alla fine sono il re della pista da ballo! oh oh! guarda e impara! guarda e impara! guarda e impara! io me ne vado! tada! sono al top del mio gioco! e ora ti mangio! ops! oh! ma dove mi trovo? ehi là! ehi amica mia! sono felice che siamo insieme! oh no! cos'è? ne manca una! oh cavolo! sole! è il tuo turno! consegnami l'arma! solo un momento! la mia testa! è super imbarazzante! un'altra arma! dinamite? eh? ripensandoci! no! preferisco spostarlo più vicino! ok! no! ancora più vicino! oh! va bene! oh oh! no! faremo corpo a corpo! oh! oh cavolo! oh! ok! stai bene? forza! bel colpo! ben fatto! eh? è vuoto? ecco te qui! ops! non puoi scappare da me! ammi 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 cos'è questo posto? sole! ehi! guarda, attenta a non calpestare l'acido è pericoloso che schifo ma come usciamo da qui? ehi, torna indietro ragazzi, tirateci fuori dai guai premete su mi piace per far funzionare la mia magia sì, ha funzionato grazie non è abbastanza ragazze facciamo squadra sole, interveniamo noi ci siamo aiuto ce l'abbiamo fatta siete tornati ti batteremo, nab nab ho davvero fame tieni duro, luna nooo non ti lascerò andare mi sta solo riscaldando ragazzi, è l'ora dello spettacolo tutte insieme non vedo nulla vai, luna polvere di luna e la luce delle stelle oh nooo oh nooo oh nooo nooo che schifo questo è tutto ciò che è rimasto di lui oh, c'è qualcosa sulla tua faccia guardati allo specchio che succede alla mia palla? oh, brufoli enormi e capelli sporchi il mio peggior incubo ne ho abbastanza cosa faccio? è finito lo slime misterioso? fantastico, posso aprirla? oh, ho un'idea dovrei stare lontana da questa maniglia ahi la mia mano che male le scheggi sono le peggiori devo sbarazzarmene il prima possibile le mie povere dita e i miei vestiti come sono finita qui è colpa di luna so difendermi da sola prima devo cambiarmi ecco le cose pulite beh, mi stanno bene ora devo combattere contro i giganteschi mostri brufolosi che schifo tutto libero dove sei, amore mio? sole è scomparso ehi, Yugi prendi ti prego no, non farlo la salverò vuoi la ragazza? perdente lei è mia attento a te il gioco è finito ehi, bella come va? tutto bene? la mia testa perdente tutti gli occhi su di me i brufoli sono finalmente spariti restano solo le macchie cerotti per acne? siete ansiosi di aiutarmi? oh sì è una manna dal cielo oh oh scottano togliamoli subito tutte le macchie dell'acne sono svanite al sole straordinario vediamo cosa c'è qui oh sì una maschera per il viso un massaggio beh non farà male di certo la mia pelle è fantastica meravigliosa ehi tu ciao piccolo stai cercando la ragazza sole? posso aiutarti guarda il suo zaino è il drapitore ha sole occupati di lui grazie per l'aiuto ehi tu che stramboide accidenti è scappato rilassati la troverai cosa starà facendo? la pelle è impeccabile posso passare al glam prima di tutto il fondotinta oh cavolo si sta riprendendo ora lo vedremo rendiamo più piccante il suo fondotinta oh caspita il mio viso è in fiamme meglio toglierlo subito e ora? pericolo scampato fondotinta sei licenziato e tu? ok proviamo fondotinta zigomi eyeliner e un trucco solare brillante ma dov'è? calma smetti di piangere la troverai io so dov'è dietro quella porta davvero? certo dopo tutto è un bagno per donne che ti credi di essere verme? cosa è stato? ops devo aver sbagliato cosa posso indossare? vedo un bel tessuto penserò a qualcosa questo diventerà un vestito sei interessato? avvicinati oh sì dovrei provarlo oh wow c'è qualcosa che non va premi su mi piace per rendere più vivace questo vestito sono in debito con te è stupendo siete fantastici cosa devo fare? dove devo cercarti? non riesci a smettere di cercarla? stai lontano vado alla polizia vengo con te per aiutarti con la foto Sole è la mia migliore amica sono preoccupata per lei andiamo meglio svegliare la gente che ne dici? che c'è qui? agente vorremmo denunciare la scomparsa di Sole e deve trovarla farò un identikit aspetta posso descriverla è un po' come me ma più brutta con l'alito cattivo e i denti brutti cosa? ha notato assomiglia a Sole vero? sì no bel ritratto buttiamoci alla ricerca è un piacere fare affari con gli esperti oh dimenticavo gli occhiali da Sole andiamo ce n'è da qui adorabile sono pronta la mia tasta vestito mi hai delusa mi servirebbe una cintura qui c'è la carta da forno colla a caldo ora vediamo cosa fare wow è una cosa perfetta ora devo solo dipingerla d'oro favolosa la mia nuova cintura è pronta ho la gola secca ecco un bel drink una cannuccia potrebbe servirmi ma ne servono altre fantastico tagliamole tutte a pezzi ottimo ora unisco i pezzi in una collana con un filo e poi dipingo d'oro wow wow la mia collana di cannuccia è pronta un rotolo di cartone puoi creare qualcosa ora lo taglio e disegno un sole con la colla a caldo ovviamente non posso fare a meno del mio bracciale wow il braccialetto minimalista è pronto meglio ancora due wow ne vado matta cosa devo fare per i miei capelli non riesco a vedere mi serve un telescopio un tubo potrebbe servirmi mi aiuterai a sistemare i capelli questo gadget dovrebbe essere riscaldato wow i ricci sono pronti ecco fatto sono pronta per la battaglia finale delle reginette del college non puoi fermarmi una porta però sì resta qui tu cosa posso fare? lo so lo so sole sei qui sto arrivando wow sole sei abbagliante ehi yugi ti ho trovata finalmente che cosa ha la tua faccia? il trucco è strano oh sole cosa sta succedendo? yugi ops corpi celesti luna sei tu la cattivona ehi la mi hai fregato la colpa è tua ragazze smettetela di litigare aspettate la colpa è tua la tiara è mia è mia? ridammela sarò io la regina ne ho abbastanza calmatevi oh oh no dobbiamo cambiarci è un incubo riceveremo di nuovo il nostro premio e le migliori costruttrici di stanze segrete sono ehi aspetta anche noi partecipiamo al concorso ops cosa? che maleducato vinciamo ogni anno noi non è giusto questa volta vinceremo noi il concorso ma cosa stiamo facendo? ehi stiamo costruendo qui vi abbiamo già battute davvero? sorella? notte basta sonnecchiare dobbiamo sbrigarci ok posso montare la struttura da sola la mia borsa non mi ha mai delusa proprio quello che ci vuole notte spostati wow ha funzionato allora chi è più veloce adesso? non riusciremo mai a vincere ce la faremo lo adoro festa saremo le campionesse la notte è ancora giovane dobbiamo arredare la stanza a modo nostro nuioso divertente cosa ne pensi? notte si è attormentata di nuovo nel carrello che cos'è? consegna tempismo perfetto ehi la testa notte sei già qui la mia stanza è finita luci wow voglio la stessa cosa ecco un'idea stelle venite qui prese decorerete la mia barete il prossimo passo è il bull oh sì è proprio come volevo che ne pensi sorellina? che miseria da guardare basta litigare usiamo la mia borsa magica ops è vuota in questo caso faremo qualcos'altro wow magia la nostra magia è più forte quando siamo tutte e tre unite magia costruiremo la struttura da sole come vuoi sì sembra un buon piano ecco un po' più veloce oh sì bene continua così ma shh è un segreto wow ha funzionato ce ne siamo occupate noi come faccio a salire? è altissimo ma anche qui non è male quante stelle e sono tutte per me stai bene? assolutamente sì continuano ad accaderti cose ragazzi chiudete gli occhi ora è accogliente ma sembra che mattino e pomeriggio stiano avendo problemi abbiamo un progetto per l'altalena calma smettitela di litigare non va bene scegliete qualcosa di più moderno questo di sicuro bella scelta prenderò questa pagina fatevi da parte magia della notte non deludermi è andata bene wow da paura adorabile grazie sveglia devo andare statemi bene sbrigati copiamo notte magia non deludermi ops non funziona ma ce la faremo il viola è quasi finito cubo di rubik posso? ma certo ops il tuo cubo è un po' diverso oh sì ora il mio pavimento è una pista da ballo ma che musica è? ma come? wow c'è una festa vera e propria hanno anche uno speaker mi farebbe comodo e un altro prendo anche le poltrone tutte e tre ehi ma cos'è stato? ops vi pagherò grazie evviva evviva la festa continua che succede? non riesco a dormire di solito mi addormento subito la 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 sorella che succede? perché sei ancora sveglia? non riesco a dormire beh ti aiuto io sogni d'oro ma che fai? piano B è una giostrina per i sogni d'oro grazie sorellina è il minimo che possa fare è fantastica da ciò che vedo le nostre vicine sono in difficoltà seguiremo le istruzioni vedo ad aiutarle posso dare un'occhiata alle istruzioni? è chiarissimo mia sorella mi sta chiamando devo aiutarla sei qui? bene Mattino il tuo compito è quello di decorare il piano di sopra pomeriggio tu sei responsabile del letto va bene notte tu sei responsabile del piano di sotto cosa? come vuoi? è chiaro? in tal caso al lavoro possiamo spostare le montagne quando siamo insieme portatele dentro ci siamo quasi ferme allora dove la mettiamo? solo un minuto devo calcolarla sai puoi tenertela da sola orpelli c'è anche un manuale vediamo primo passo aprire il manuale ma che fa? quale sarebbe il mio lavoro? ecco una tenda so cosa fare le luci sono pronte così come le nostre foto divertenti è stenuante ho bisogno di ricaricare la mia batteria interiore sarebbe più facile se lo finissimo da sole i ripiani sono pronti anche qui c'è spazio per tutto non è nemmeno a metà posso avere l'orpello ci farò delle tende Eila non serve a niente sorella aiutami fatto aggiungiamo le candele e nuvole soffici chiudi gli occhi aprili non è incredibile wow è mozzafiato fantastico uno due bene chi saranno le vincitrici nel concorso? è vero la competizione diamo il benvenuto sul palco alle concorrenti vinceremo noi? vi piacerebbe la stanza segreta di sera e notte beh è impressionante la stanza di mattino e pomeriggio la nuova squadra è riuscita a stupire la giuria e il premio va a mattino e pomeriggio sì ce l'abbiamo fatta no com'è possibile? ci meritiamo la vittoria ma ad essere sincere non solo noi questo premio è anche vostro state scherzando? non ce l'avremmo fatta senza di voi grazie wow sorella una nuova avventura è all'orizzonte wow dove siamo? è così carino traslochiamo perché? guardate cosa ho trovato materiale da costruzione aiutatemi a costruire una stanza segreta ecco a te a cosa servono queste travi? eccone altre ho qualcosa di più importante da fare quasi finito ultimi due travi wow guarda wow incredibile notte e sveglia ma che vuoi? guarda cosa abbiamo fatto ottimo lavoro ma manca qualcosa lo so usiamo la magia tutte insieme ora ottimo perfetto svegliati notte andiamo a vedere com'è venuto mi piace e c'è spazio per sdraiarsi per un pisolino notte si addormenta sempre e ovunque ho bisogno di un materasso per dormire wow ne avrei bisogno anch'io fatto mattina mi aiuti a trovare un materasso per notte? certo solleva metto giù il materasso ops ai che male mi avete fatto male al braccio perché non mi lasciate dormire? fit la mia app preferita per l'allenamento mattutino ma dove metto il tablet? ehi giorno ho bisogno del tuo aiuto puoi tenere questo? devo rimanere qui per sempre? grazie stai andando alla grande wow bellissimo voglio quel tessuto aspetta mattina cosa stai facendo? hey hai preso il tessuto lo pagherò più tardi grazie dell'aiuto ciao ho un'idea fantastica per decorare la stanza ho finito bello adoro questo posto ma abbiamo bisogno di più luce wow i miei occhi chi ha acceso il sole? scambialo con la luna ehi ho freddo senza la luce del sole idea avrò il mio sole personalizzato nessuno potrà spegnerlo wow ehi non riesco a dormire è così ingiusto zuccherofilato ne vuoi un po'? certo oh è zucchero puro grazie ma non dovrei ai cos'è stato? wow che nuvole fantastiche mi piacciono vado a godermi il panorama wow bellissimo ma manca qualcosa wow un baldacchino per un dollaro ed ecco il pacchetto ma cos'è? uno scherzo ci sono le istruzioni basta aggiungere acqua ok ci provo wow ha funzionato è così carino e lo sarà ancora di più con le luci tipico di notte anch'io decorerò la mia stanza voglio tanti fiori wow fantastico cos'è questo profumo? fiori non sono bellissimi? ehi da dove arriva quest'erba? ups è stato un incidente beh mi piace le storie sugli astronauti sono così belle cos'è? ups colpa mia ai! notte! fai attenzione mi dispiace wow un vero casco proprio della mia taglia e questo cos'è? la luna direttamente dalla foto farà un figurone sulla parete il casco mi sta bene la mia stanza non è abbastanza luminosa idea farò le mie decorazioni da parete le farfalle faranno al caso mio oh che fame hai rovinato tutto mi dispiace non volevo wow incredibile grazie non c'è di che è ora di iniziare il mio allenamento mattutino ma mi manca qualcosa ho bisogno di più attrezzature per prima cosa gonfio una fitness ball fatto e ora ho la mia palestra personale ragazze iniziamo wow è così carina ai! scusa è una palestra per una sola persona ci alleneremo all'aperto mi allenerò nel sonno cos'altro posso usare come decorazione? oh una poltrona perfetta wow voglio questo questo e questo oh sì uno specchio oh oh errore fondi insufficienti non va bene voglio questo specchio wow ha funzionato sono bellissima oh non riesco a dormire qui ho bisogno di un nuovo cuscino oh ho un'idea voglio un cuscino a forma di luna forza oh è dura dovrò impegnarmi un po' ragazze aiutatemi devo prendere la luna uno due sì grazie ora sono a posto ciao vado a letto ma dov'è andata notte? ehi là c'è nessuno? ho tanto sordo è strano sveglia sono sveglia guarda l'ora non puoi dormire adesso vai in camera tua ora dormo io notte uso una sveglia come cuscino ciao ciao Grazie a tutti.